A Marina Centro e a Miramare i lavori del Parco del Mare sono infine partiti. Dopo le fogne, il Teatro Galli e il Metromare, un altro intervento a lungo dibattuto a Rimini arriva alla fase delle ruspe e questa volta tocca i 15 chilometri di costa. Il valore complessivo del progetto si aggira sui 35 milioni di euro, di cui una larga parte è intercettata tramite bandi regionali e statali. Non abbiamo fatto il lifting, non abbiamo fatto la plastica, ma abbiamo fatto la sostanza. Abbiamo dato un corpo nuovo a Rimini, che non scarica in mare, che avrà le palestre a cielo aperto, che avrà l'acqua, avrà i servizi, avrà i ristoranti sul lungomare, avrà le piste ciclabili, avrà il lungomare più bello del mondo. Tra i punti cardine dell'intervento, l'inalzamento del piano di passeggiata di 80 centimetri per fare fronte ai cambiamenti climatici e all'avanzamento del mare. Come dovrà cambiare l'approccio dei riminesi al mare e a raggiungere il mare? Una parte della nostra regione e molte regioni del nord sono in allerta rossa, esondano i fiumi, è più caldo, piove di più. Dentro questo cambiamento cambiano le abitudini. Se vogliamo vivere in una terra che non sprofonderà sotto l'acqua, dobbiamo cambiare, dobbiamo innalzare il lungomare, lo stiamo facendo. Il nostro comune ha intercettato importanti finanziamenti, sia regionali che ministeriali, che ci consentiranno di proseguire poi questi lavori anche sul tratto 2 e il tratto 3, ovvero da Piazzale Kennedy, proseguire fino a Tripoli e poi fino a Pascoli.